husky il cane lupo del nord il collo dalla testa alle spalle una massa di pelo ispido orecchie appuntite muso allungato labbra ringhiose zanne gocciolanti guaisce più che abbaiare simile al lupo all'aspetto e non bello a vedersi quando è arrabbiato e questo lo husky o cane lupo del nord molto sedetto su klondike ma poco si è parlato di questi animali stupendi che inizialmente resero possibile quel gelido il dorado e non perché essi non sono che umili servitori del padrone l'uomo sono tutt'altro che umili come testimonia la loro feroce ascendenza possono essere percossi fino alla sottomissione ma ciò non impedirà loro di ringhiare il loro odio possono essere tenuti a fino all'apparente docilità e poi morire all'improvviso coi denti serrati alla gola di un fratello sbranati dai loro compagni non hanno attratto l'attenzione perché l'interesse dell'uomo ha sempre gravitato verso le caratteristiche naturali minerali e sociali di quella terra dell'estremo nord ma lo husky è tutt'altro che privo di interesse dal punto di vista della resistenza può considerarsi il tipo più evoluto della selezione naturale semmai una specie nata e cresciuta nelle difficoltà è questa hanno resistito solo i più forti in una lotta per la vita che si protrae da migliaia di generazioni e sono in ottima forma addomesticati dai nativi di quella impervia regione possono vantare non solo come remoti antenati ma spesso come predecessori immediati i feroci lupi è un aforisma delle terre del nord che nessun uomo può essere in grado di guidare una muta di aschi se non è in grado di padroneggiare gli aggettivi e gli appellativi insultanti di almeno due vernacoli oltre a quello succhiato col latte materno in effetti un guidatore di cani è parente stretto del guidatore di muli dell'esercito un mulo è testardo e molti dimostrano barlumi di astuzia ma lo aschi è caparbio falso astuto e soprattutto capace di ragionamento deduttivo infallibile nel collegare causa ed effetto è anche un attore di abilità non comune capace di nascondere i disegni più afferati sotto l'apparenza innocente di un agnellino in passato prima della scoperta del klondike gli uomini che trasportavano riveri da circle city a birch creek usavano far pagare 20 centesimi al chilo in più rispetto a tutte le altre mercanzie la pancetta affumicata e anche allora tale era la responsabilità che ritenevano la transazione poco remunerativa nessun uomo bianco è mai riuscito a inventare un modo di legare un aschi corde e cinghie resistono ai loro denti aguzzi dal massimo per qualche minuto l'indiano viceversa ha elaborato nei secoli l'unico modo possibile usando un bastone un'estremità del bastone viene legata così stretta al collo del cane da non permettergli di arrivarci con i denti l'altra estremità è legata con un'altra cinghia a un palo infilzato a fondo nel terreno incapace di liberarsi dalla sua estremità il palo impedisce il cane di arrivare all'altra capita spesso di vedere questi animali rompere il ghiaccio di una buca d'acqua balzando in aria e ricadendovi con tutto il loro peso sulle zampe anteriori come ladri di vivere non hanno pari e i mendaci abitanti di klondike non esiteranno a raccontarvi di un aschi che rubò del latte condensato e andò a barattarlo in un altro accampamento dove il latte scarseggiava per un pezzo di pancetta affumicata certo è che sanno aprire i barattoli di latte condensato ed estrarle il contenuto nel periodo estivo quando neve e ghiaccio sono spariti e l'uomo viaggia con canoa e barche apertica gli aschi devono badare a se stessi non lavorano perché dovrebbero essere nutriti diventano per conseguenza degli eccezionali pulitori e compiono prodigi di efficienza igienica nulla sfugge loro non un osso che non sia stato schiacciato per estrarne il midollo non un barattolo d'alluminio che non abbia l'interno lucido e smagliante sono anche eccellenti pescatori e nel periodo del passaggio dei salmoni nessuno di loro è affamato la pratica di abbandonare i cani a se stessi dà origine a un'etica peculiare del nord un uomo che ruba cibo un altro è ucciso senza pietà ma nel caso dei cani è diverso se un uomo coglie un cane sul fatto mentre sta finendo il suo ultimo pezzo di pancetta può non sparargli se lo fa il padrone può pretendere da lui un risarcimento in quanto cane da tiro e la sua entità viene stabilita di solito da un assemblea di minatori non è una cifra da poco perché i prezzi dei cani da slitta oscillano da 100 a 500 dollari per toccare in certi periodi anche i mille sono viaggiatori eccellenti ritornando indietro senza carico i trasportatori di circle city possono percorrere senza sostare oltre 100 chilometri per quanto feroci siano spesso tra esse i loro padroni nasce un forte attaccamento è un uomo che possiede un buon cane o una buona muta non tarda a vantarsene negli annali del paese si registra la storia di un padrone il quale scommise mille dollari che il suo aschi preferito avrebbe trainato mezza tonnellata su una pista pianeggiante i cursori d'acciaio di una slitta ferma gelano rapidamente in superficie la scommessa stabiliva che essi non venissero liberati dal ghiaccio ma dava al cane tre possibilità tutto l'accampamento fu coinvolto nella scommessa il giorno stabilito era presente al completo il cane fu attaccato alla slitta carica e tutto fu approntato ordinò il padrone a distanza il cane pegò docilmente sulla destra gettando astutamente tutto il suo peso sui solchi della pista la manovra fu ripetuta sulla sinistra e la slitta barcollò e poi mascian il vernacolo per via il cane ci mette leggermente puntando le zampe sulla pista ghiacciata mettendo in gioco tutti i muscoli scavando come un matto e sotto questo sforzo tremendo la slitta prese lentamente a muoversi e fu trainata per parecchie lunghezze ci prove un uomo a fare un'impresa del genere si trattava ovviamente di un cane eccezionale ma la capacità di una razza si misura spesso dagli esemplari più straordinari è nella lotta che gli aschi mostrano le qualità che gli accomunano ai lupi finché i due combattenti restano in piedi non avvengono interferenze il branco che assiste si affolla intorno con interesse pronto tuttavia per il primo errore e nell'attimo in cui uno dei due cani è a terra gli si scatena addosso e in una frazione di secondo il perdente viene sbranato è questa la causa della perdita di più cani di qualsiasi altra o di tutte le altre messe insieme una peculiare caratteristica è il loro ululato non somiglia a nessun altro suono di mare o di terra quando il gelo si fa mordente e l'aurora boreale solca il cielo coi suoi geli di fuochi danno voce nella notte alla loro sofferenza malinconico singhiozzante sale come un lamento di anime perse e torturate e quando migliaia di aschi ululano il coro è come se il tetto fosse precipitato e l'inferno si mostrasse nudo alle stelle nessuno può dire questo gemito per la prima volta senza che un brivido lo percorra fin nel profondo un uomo di cultura di cui non facciamo il nome ma le cui poesie incidentalmente sono state lodate da rossetti attraversò il klondike durante la corsa all'oro del 1897 insieme a un amico e alle loro mogli viaggiando in un battello sullo yukon vennero a conoscenza delle più atroci storie della carestia che aveva colpito dawson oltre che mentitore l'abitante del klondike è un pittoresco narratore cosicché i due stranieri prestarono fede agli orripilanti racconti e si prepararono a difendere con tutte le forze le loro provviste sfortunatamente giunsero nei pressi di dawson durante la notte sapevano di essere molto vicini e stavano ben attenti all'improvviso in un'anse dello yukon udirono un flebile lamento tendendo l'orecchio il lamento crebbe d'intensità sembravano gemiti di donne e bambini e uomini agonizzanti discussero per un attimo se questa era la carestia e non c'erano dubbi che lo fosse sarebbero stati fatti a pezzi nell'assalto alle loro vettovaglie presi dal panico afferrarono i remi e si precipitarono verso riva sbarcando a klondike city e neanche i pochi uomini che incontrarono riuscirono a convincerli che si trattava soltanto del canto notturno degli aschi e le mogli non la consentirono a proseguire il viaggio finché il signore le cui poesie erano state lodate da rossetti non si recò a piedi a investigare personalmente fine